La gara, no? Non si può più pagare la benzina, non si può più pagare la benzina, non si può più pagare la benzina. Una politica che non rispondeva, così come avrebbe dovuto, in modo significativo, la realtà, che questo è fare politica, Mono diceva, probabilmente, ma a più da tutto, l'evoluzione storica non solo può dire che i luoghi di fronte allo Stato, un paese, quindi, che risponde in maniera unitaria, è conclusivo. Come se quella fosse qualcosa che è stata ingiustamente messa in campo per far soffrire gli italiani. Ma quella decisione è il risultato del malatro. Grazie. 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 Grazie.